Ciao a tutti, sono Danji e oggi sono ancora qua sul canale di Umba per presentare il mio Green Maggio TK Post Banned e Post Battle of Chaos Partiamo dal main, gioco 42 carte ma volendo potremo giocare anche 60 Gioco 3 Green Maggio che dà il nome al deck A differenza di quello che molti pensano, non è su di due che basiamo la combo TK Però comunque bandendo un sacco, buttare di normal un bitone gigante non ci fa schifo Infatti come vedrete otticaperemo soprattutto con gli Xyz di rango 8 Infatti gioco 3 Gizme Korochi, praticamente il motore del deck Si evoca Special Quick da mano cimitero bandendo il primo autocad del nostro deck E volendo nel nostro turno possiamo bandire 3 carte dal nostro extra deck per spaccare un moto scoperto sul terreno Ma ci interessa soprattutto per il primo effetto Poi gioco un repartino Kaiju, cioè 3 game c'è le 3 gadarla Che vorremmo vedere almeno uno di primo per togliere via il negate che ci dà più fastidio dell'avversario Infatti questo deck è un blind going second che punta allo TK spaccando le board dell'avversario Per aver più possibilità di attivare Slumber, visto che comunque possiamo pescarli o bandirli dal deck Potremmo togliere un game c'è le 1 gadarla per mettere 2 dogora Anche sarebbe l'altro Kaiju dinosauro di livello 8 Poi 3 alfa, fortissimo Praticamente si evoca Special dalla mano se l'avversario controlla più mostri di noi Oppure se controlla mostri con attacco più alto dei nostri E va in combo con i Kaiju in quanto una volta per tono possiamo targettare lui un altro mostro best Guerrero best o bestialata Facile di tornare in mano e far tornare all'avversario un numero di mostri Pari a quelli che ci siamo fatti balzare noi Senza targettare i suoi mostri però, quelli dell'avversario E volendo possiamo rimbalzarsi un Kaiju Rekageare un mostro dell'avversario e rievocare specialmente lui Visto che l'effetto non è once per turn Poi gioco 3 Bigfoot È il dungeon migliore livello 8 da evocare In quanto è un 3000 Pacca una carta scoperta se scartato Ma che ci vada che l'avversario ce lo becchi Quindi sinceramente lo preferisco a Thunderbird Poi gioco 3 Curi Bostrale, questa è nuova da Farta di La Leggenda In pratica lo possiamo evocare in special da mano Rivelando un mostro Xyz numero da nostro extra deck E guadagna praticamente il suo livello E se lo utilizziamo come materiale Xyz Quello Xyz sarà indistruttivo in battaglio ed effetto carta Quindi è davvero forte Perché in sto deck abbiamo un bisogno assurdo di extender di livello 8 Come avrete capito Poi due Gliffi e due Trude Glifo praticamente lo scartiamo per raggiungerci dal deck alla mano Un castello di Stromberg E se è evocato normal o special può spaccare una magia trappola sul terreno Mentre Trude Praticamente quello che è il target principale che evocaremo di castello di Stromberg Può spaccare una carta Volendo si può pompare Ma lo useremo soprattutto per farci Xyz E infine per i mostri Due Hater of Millions Non ha 3 Perché comunque Sì ci piace bandire Però l'extra ci serve Per il suo effetto Se attacca un mostro lo bandisce coperto senza targettarlo Volendo possiamo cacciarlo via per evocare anima abbandonata dal nostro extra deck Che poi vedrete Per le magie gioco 3 castelli di Stromberg Detta anche la carta che non legge nessuno Ha 3 effetti principali Il primo è un costo Cioè dobbiamo bandire durante ogni nostra stand Vai le prime 10 carte del nostro deck Se no la mandiamo al cimitero Il secondo è che una volta per turno possiamo evocare specialmente dal nostro deck Un mostro che include il castello di Stromberg In questo caso Trude la maggior parte delle volte E l'ultimo è che se l'avvisore ci attacca con un mostro Distruggiamo quel mostro Gli infliggiamo un danno pari a metà del suo attacco Poi 3 fulmini tempesta So che costa Ma cosa entra fondamentale Ci toglie back row Ci toglie mostri antipatici dell'avvisore Ci fottica pare che è un piacere Quindi se potete Davvero recuperatevela Poi 2 rai jeky E 2 slumber So che rai jeky a 3 Ho voluto trovare spazio anche per slumber Perché slumber Ci porta anche un kai juta deck Quindi un extender da utilizzare Come materiale ex-seeds Poi 3 baratti Giocando 17 o 18 mostri di livello 8 Non è quasi mai morta Ci fa plussare che un piacere Ovviamente una gerra dei desideri Purtroppo ce l'hanno limitata Però fidatevi che non è un grosso problema Perché già prima Se ne attivava una duello di solito E va bene così E infine una foolish Per mandarci al cimitero il prima possibile Gizme Korochi Che come è detto è il motore del deck Passiamo all'extra L'extra divisa in vari repartini Il primo è il repartito numero drago Giochiamo drag bulione Praticamente diciamo è il motore del nostro extra deck Per il suo effetto è in targettabile ed effetti Una volta il perdono possiamo staccare un materiale Scegliamo due mostri numero drago con nomi diversi Uno dal nostro extra deck sicuramente Un altro dal nostro extra deck o cimitero E praticamente quello scelto da extra deck lo evochiamo E sotto evochiamo l'altro target Come target suoi abbiamo numero 100 Praticamente staccando uno guadagna 1000 Per ogni rank sul terreno Quindi avendo già lui e lui Diventa un 9000 che si attacca diretto E ci fottica appare Numero 38 Che praticamente una volta il perdono C'è nulla una magia dell'avversario E numero C107 In quanto è un 4005 Quindi un bitone già di suo E volendo staccando uno Possiamo annullare tutti gli effetti Dell'avversario in quel turno Prima di lui giocavo numero 92 Solo che con l'aumento di skill drain Ho preferito avere qualcosa Comunque di più sicuro Visto il suo attacco Poi abbiamo un repartino fotonico Giochiamo numero 90 Che una volta per turno Stacca uno annulla l'effetto di un mostro dell'avversario E armatura completa Che possiamo evocare sopra di lui O sopra numero C107 E un 4000 che staccando uno Ci spacca un mostro scoperto Poi giochiamo un repartino scurità Il primo è zombie rinato Purtroppo mi manca Perché è nuova uscita da Battle of Chaos Praticamente uno Xyz di rangotto E immune dagli effetti dei mostri evocati specialmente Dell'avversario a parte dal cimitero Per l'effetto stacchiamo uno E entrambi gli avversari Millano le prime quattro carte del proprio deck Praticamente rebordiamo uno dei mostri Che abbiamo millato In questo caso di solito sarà un livello 8 Che evochiamo per eventualmente farci un altro Xyz Dinghearsu Fortissimo Praticamente manda una carta al cimitero dell'avversario Senza targhettarla E volendoci previva anche La distruzione delle nostre carte Numero 23 Lancelot È una carta particolare In quanto può attaccare diretto Se lo fa Spacchiamo un mostro dell'avversario scoperto E una volta aperto uno Quando viene attivato l'effetto di una carta Cioè magia, trappolo, mostro Dobbiamo per forza staccare uno E annullare quell'effetto Quindi se lo evocate Vi conviene evocarlo Di primo Quando non dovete più fare nulla In quel turno Poi Numero 68 Sanaphond Per l'effetto guadagna 100 per ogni mostro nei cimiteri Ha un buon effetto floodgate Perché staccando uno Diventa indistruttibile E Nessun giocatore può evocare Specialmente mostre dal cimitero Poi abbiamo Numero 84 Che praticamente Evochiamo sopra Un nostro Xyz Oscurità Con almeno due materiali Di rang 8-9-10 Per il suo effetto Guadagna 200 Per ogni rank sul terreno E possiamo staccare uno Per spaccare tutti i mostri Con difese inferiore alla sua Quindi in questo caso Sarà con difese inferiore Di 2200 Di solito Perché lui E' già rank 11 Quindi un buon effetto Per levare mostre All'avversario Ti che appare più easy Poi il numero 77 Lo possiamo evocare Sopra numero 84 E' un biton assurdo Se verrebbe distrutto Possiamo invece Staccare un materiale E una volta per turno In questo caso Il turno dopo Che l'abbiamo evocato Possiamo staccare uno E bandiere tutti i mostri Evocati specialmente Dell'avversario E infine Zeus Che se evocato tramite Scaletta 84-77 Ci diventa di 5 materiali E già di suo Può essere una win condition Infine Repartino Link Gioco anima Volendo possiamo Cacciarlo via Grazie a Heater of Millions O Astral Curibo Per evocarlo E rubare un Kaiju Che abbiamo evocato All'avversario Visto che possiamo evocare Una zona in cui vogliamo E un soldato del caos Useremo come materiale Sempre un livello 8 E avere un 3000 Indistruttibile E intergettabile Non fa mai schifo Poi vi do anche Un'idea di side Gioco 3 scorridore Soprattutto se partiamo Secondi L'avversario scomba di brutto Fa più male a lui Che a noi Due golem di lava Nel caso Non bastassero i nostri Kaiju Per levare i mostri Scomodi all'avversario Poi due twin twister Uno spolverino E un ravio rosso Contro le back row avversarie Per ottica Capare più facilmente Contro deck trappolosi Tipo Altergeist E infine Un repartino floodgate Nel caso Partissimo primi In questo caso 3 derken E 3 limit summon Nessuna delle due Ci dà particolarmente Faciti In quanto Con derken Giochiamo Soprattutto Cioè Giochiamo Molti mostri Di tipi diversi E con limit summon Anche con poche summon Riusciamo a evocare I mostri Con attacco molto alto Quindi farà sempre più Mielo all'avversario Che a noi Con questo concluso Ringrazio Umba Per avermi permesso Di essere ancora Sul suo canale Mi raccomando Iscrivetevi Commentate Soprattutto Provate il mio deck Che vi garantisco Che è davvero divertente E non ve ne pentirete Un saluto E alla prossima